Grazie! oooooooh! Simpli- David è davidelevenonota Davidelevene Lynch è giorni 9 2024 in April è totale cloude mmmm Qua è un'atmosfera, il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. Il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. Il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. Il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. Il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. Il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. Il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. Il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. Il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. Il cielo e l'atmosfera in generale, e questo è un'atmosfera in generale. e questo è un'atmosfera in generale sento che ora e fa, questa è molto più pepa proprio la giornata, questo è un'idea che è ancora non è bravo, non è visto non è successo, ma non è più non è più triste oggi è prima, ma è lì, è lì, è lì grazie a tutti è che fanno in giù il sanno il mostro mio ultimo tempo, guarda Ah, insomma, lo dimentico. Asi, tu e me amore.